Questa settimana dopo la comunicazione della vittoria del bando che prevederà un finanziamento di 81 mila euro su un importo totale di 111 mila, il comune di Bordighera e quello di Ventimiglia, l'Università di Scienze Agrarie di Torino, l'osservatore del paesaggio della riviera italiana e francese, il centro studi e ricerche per le palme, si sono riuniti per dare il via al progetto di sinergia per la riqualificazione dei giardini Tommaso, Reggio e Winter. Inizialmente si tratterà di stilare un puntuale studio storico anche attraverso testimonianze d'epoca, dopo si procederà con l'allestimento e la sostituzione degli alberi che sono stati abbattuti a causa del punteruolo rosso.